Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farming Simulator 22 nella mappa Elm Creek Ragazzi, oggi siamo qua in compagnia di Mie di Caccio Wey ragazzi, ciao a tutti, mi sono messo il cappellino, compà che il sole fa male in testa Oh, io me lo so dimenticato, quello vero però, me lo so dimenticato di mettermelo, vabbè fa niente dai Allora ragazzuoli, dunque che famo quest'oggi? Abbiamo un po' pensato i Mie di Caccio, perché comunque come sapete i soldi mi mancano E ci vuole un guadagno in più, bisogna fare più soldi A questo punto mi sa tanto che conviene prendere un po' di serre in più Ovviamente dobbiamo fare un po' di viaggi con l'acqua in più Però è l'unico modo per aumentare il guadagno Perché, io vi spiego una cosa, magari qualcuno dice Ma Nick, ma piazza un pannello solare piuttosto che tante serre Mi sono fatto due calcoli, il pannello solare, quello da 93.000 euro Mi fa guadagnare 800 euro ogni giorno Invece una serra da 10.000 euro, più o meno fa 1.500-2.000 euro al giorno Quindi la serra costa nove volte di meno Fa più del doppio dei soldi Dico, ebbè, meglio mettere qualche serre in più Qui abbiamo un po' di spazio Ci stavo a fare l'erba qua, e va bene Ma sinceramente con i soldi che faccio dall'ESR Mi vado a comprare un terreno a erba e famo prima, no? Anzi, viene pure più bello Quindi, insomma, l'idea è questa Perché se no non riusciamo a fare abbastanza soldi Per portarvi, ovviamente, anche le altre novità di farming Perché rimaniamo bloccati con i soldi Quindi direi che questi sono i migliori soldi spesi Che possiamo spendere oggi Naturalmente speriamo che poi nel mercato dell'usato Mettono una bella botta dell'acqua grande Perché ovviamente servirà ora che metto tutte queste serre Però c'è un problema C'è un problema Dato che io devo mettere le serre qua E il carrello... Devi chiedere 20.000 euro di prestito, no? A parte quello Il problema è che io devo mettere le serre qua Finché uso il dolly E' un dito in quel posto fare la manovra per mettere l'acqua Compa, mettile con il serbatoio dove sto io qua Eh, non si può mettere, al contrario C'è terreno Allora, facciamo che me faccio dare 30.000 euro Anzi, qualcosina di più Piazziamo un po' di serre Nelle cose, nelle offerte qua del mercato dell'usato Non c'è nulla che mi piace, raga Allora tu, compa, cominci a preparare il cassò Il carrello che ci carichiamo Il miele lo andiamo a vendere intanto Che io piazzo sti cosi E poi io do A voi oggi è da vendere a marzo Ok, va bene Allora, dunque, che prestava di raga Quindi i generatori, raga Non convengono 46.000 euro tipo 16 euro all'ora Vi fate due conti Non si guadagna niente Proprio una miseria Una miseria Purtroppo chi ha calcolato I guadagni Non so come ha calcolato i guadagni Perché non conviene Come anche il miele Il miele vedrete tra un po' Che non vale granché Però il guadagno maggiore È dato dal fatto che le api aumentano La produttività della colza Delle patate E dei girasoli Quindi la prossima volta Devo mettere ovviamente la colza Facciamo una prova diversa Anche se io sono pieno Ho necessità di fare Come si chiama Devo fare il pane ovviamente E mi blocco per un anno Se faccio la prova con la colza Però Indando che faccio Ok compà Ti ho preparato quel tutto Sta bene compà Io andando piazzo qualche serra in più E che ce la mandassero buona Anche perché Oh che era ma piazzi Si sovrappone ad un altro oggetto Quale oggetto No vabbè No vabbè Ah per quel motivo No no ma la fa piazzare Perché ci sta Un filo di erba per terra E quella rompe Li metto do caspita Mi fa mettere Qua me lo fa mettere Già va bene Una Boh raga Meglio di così Oddio Preferivo al contrario Però vabbè Al contrario no Perché i pallet Poi sai che me li mette male Qua mo col dolly Te voglio No no Ma io non lo sto comprando Mo quello Perché ovviamente Perché costa 68 mila euro Quel Quella botte Quindi per ora Compatti diverti Con quella piccola E tanto io Ho scoperto Un laghetto Tutto vicinissimo A questa farm Scommetto che anche tu L'hai visto Eh non lo so Che è un laghetto Piccolissimo Vicino 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 Mo ti faccio vedere Dove Ah bo Mo ti faccio vedere Allora Fammi prendere il trattore Ma sta attaccato già Al carbotto No lo devo attaccare io No no Piggati il trattore Quello dove c'è Il cassone nuovo Ma se è Ferguson No Ah bo Piggati quello che ti pare Vai E anche perché Compatti Devo trovare Questo carbotto Dove l'hai messo E lì E dove c'è Il parcheggio Dove ho parcheggiato Lì dove 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 c'è I vari cosi Compa Ah ok Sotto il capannone Qua Ok E mo Questo como Giro Così Il miele Non lo vuole accettare Eh perché c'è Perché c'è qua Il silo Dei semi Sì Allora dovrei avere Un altro Di miele Un altro Di miele Ce l'abbiamo Se ricordate L'avevo messo Sotto Casa Perché questo Ci entra Sotto il capanno A posto Ora appena mettiamo L'acqua In tutte le serre Mettiamo il gioco Veloce Vediamo quanti soldi Arrivano Anche perché Dobbiamo andare avanti Proprio perché C'è da trebbiare A luglio O agosto Non mi ricordo Tra un po' C'è da trebbiare Tutto sto frumento Ci continuiamo a fare Il pane E poi la prossima volta Proviamo con la colza E vediamo Vediamo quanto ne esce Di raccolto Raga Anche se Giustamente Non so quanto Ne è uscito Precedentemente Ho seminato Mi pare quel terreno A colza 2007 Vedremo in futuro Se me ne da di più Allora Qua leghiamo tutto Chiudiamo tutto Tu dove vai a caricare Vicino al negozio Più o meno E ma mostro Andando a vendere Il mele Miele Miele Vieni qua Un attimo Fammi almeno Mandare il tizio A vendere Ti faccio vedere Dove sta il laghetto Johnson Farmer Un secondo Un secondo Che ci manda Chi sto Johnson Farmer Ok Arrivo Ma tu sei già là E certo Che lo conosco Sto lago Sempre qua Vengo Io E quindi Non è vicino Al negozio Ma io vengo Sempre qua E ce n'è un altro Vicino al negozio Che è ancora peggio Per caricare Lo so Lo so Ma perché non carica L'acqua Ah ecco Ora va Che poi è vero Che poi è vero Ho avuto lo stesso problema In multiplayer Vabbè C'ho avuto il problema Che non mi caricava pure l'acqua E per sbaggarlo L'ho dovuto ripristinare Fiamo una cosa Prima quanto mi costa Prima quanto mi costa noleggiare E quindi non sai Quanto spende E non capisco Perché tolgono le cose Che funzionano bene Il 19 E questa cosa Funzionava bene Perché l'hanno tolta Noleggi Noleggi Ah no 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 Lo dice lo dice lo dice Lo dice no no Vuoi noleggiare per 3004 Lo dice lo dice Eh sì noleggiamo va Dai Va bene Dammi il trattore rosso Se l'hai riportato Poi E io sto andando già là fra Dove la Dico con l'aghetto No Eh no perché Ok vabbè vai al laghetto C'è mando un altro trattore Eh bravo Mandami un altro trattore qua Che poi faccio il cambio Anzi no Vado direttamente a pigliare il dolly Dai che cambia Tanto pure sto trattore C'è 200 cavalli Mi pare A sto punto Famo così Quindi ragazzi È l'unico modo Questo per guadagnare Un po' di soldi Perché se no Non so come Come posso andare Un po' più in fretta Avanti no Perché poi mi dite Manicche ma Qua se fa ripetitivo Eh lo so Ci vogliono i soldi Quindi l'unico modo Che conosco al momento Per fare un po' di soldi Buoni È aumentare le produzioni Aumentare la produzione Di pane È complicato Perché ci vogliono Enormi terreni Di frumento Ed è troppo complicato Costano i terreni I macchinari costano Seminare costa Invece le serre Un po' d'acqua Bam 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 E fa i soldi Molto meglio Quindi mo' abbiamo Senza molti sforzi Mo' abbiamo Vabbè Vabbè Ovviamente Tu caricherai di brutto Compa Sì Ovviamente la bot dell'acqua Non è nostra Il resto sì Il resto è nostro Cioè tu 32.000 litri Ti fai Quasi Una serra e mezza Eh già Eh bisogna far così Sennò non ci sbrighiamo mai Difatti sta botta E poi la compriamo Ma Difficilmente La metteranno in offerta In caso la compriamo A prezzo pieno In caso la si compra A prezzo pieno Raga Però almeno È l'unico Anche poi questa Comprandola È anche buono Perché Ci puoi trasportare Il latte In futuro Se abbiamo le vacche Torna utile pure Per quello Per il latte Certo Anche perché poi Devi fare il burro Caseificio A voi A maggio A voi Io c'ho 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 il forno Mi mancano gli ingredienti E posso fare le torte Quindi Quello pure Ci sto pensando A voi Ah comunque Ce la fanno Problema Alla fine Qua Ovviamente Se riesco a caricare L'acqua Ah mi pare Che problema È sto coso davanti Stacca Carica E mo non mai carica L'acqua Allora ragazzi Proviamo qua Magari questo Mi va un po' meglio Che d'altronde Qua sto proprio Immerso nell'acqua Ah si Da qui carica Ok Carica bene Dal negozio Perfetto Meno male Guarda Allora Il miele Lo posso vendere Oh Vado cavolo E eccolo Guarda tanto Mi darà poco Il miele Non vale Granché Infatti 1300 euro Il miele Proprio Non dà Niente Quanti palletti Erano 4 o 3 5 o 4 Non mi ricordo Mamma mia Allora Rimandiamola a casa E vabbè Vabbè Che devo fa Le api Tenle Compate Tenle Perché Sì Sì Vabbè Ovvio Per quel motivo Lì Si fanno 5 volte 5 volte I campi E le ho testate io Sì 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 Ah sì Ma il casco Te lo sei messo Poi ti viene Il mal di testa Le ho testate No Io Basta Io muto Le ho testate Ho messo il casco Non va Eh Ma ci vuole Trove la riempita Il botto di acqua Però Eh Non la riempire Tutto compasso Non rimarrà La bloccata Ma valendo Per occupare Guarda che ti sto dicendo Dai Piccolo trattore Tira Dai Ah ma qua c'è il biogas Sì Forza Tira Non si fidava Mi ti caccio Va là E' uscito Come se niente fosse Scattante Sì A voi Sto tornando Compa E' bello pieno E' ragazzi Acqua Sono 32.000 litri Ci mettiamo 10.000 litri A cosino E' a voglia Che ti fa 10.000 litri Compa Pufa A voi Io voglio vedere Il giorno dopo Se c'è qualche bella offerta Magari mi danno Sta botta in offerta Che me la compro subito Mi sa se niente offerta Costa 62.000 euro 68 68 La vorrei via con l'offerta E che non trovo il camion con l'offerta Non trovo la Mi serve una seminatrice con l'offerta A me me ne servono tante di cose con l'offerta Allora fa vedere quanta acqua c'è qua Acqua 11.000 E boh E' una parola e poi E quello è il problema Col camion è facile fare la manovra Ma col dolly Sai cos'è compa Devi entrare Auguri compa Se riesci GG Tanto Sto scaricando già Vabbè perché per fortuna il trigger almeno è bello Buono Non mi va di scaricare troppa acqua Dai Oh c'è la famiglia retromarcia che in prima T'ho detto Con una fatica bestiale Ormai pare che qua non c'è niente E vabbè però dai L'acqua la piglia da tutti i lati Mi posso scaricare pure davanti E' buono compa Buono buono Buon per te no? Ya Anche compa Le pecore Le pecore prendono una balla al giorno Di quelle piccoline Ma non è che mangiano come la Ciamberg Buono buono Mamma la Ciamberg Che ricordi compa Se manca Mamma Non te riuscivi più da quegli animali E' davanti Ma questo lo manda indietro Che è un'altra botta La voglia Che ha pagato 3.000 euro Per fargli fare solo una bottata Allora Facciamo passare una giornata Così vediamo se cambia qualcosa Nel mercato dell'usato Vediamo anche quando i soldi arrivano Avevo 5.500 più o meno Ma il noleggio l'hai lasciato? Si mi serve ancora un altro carico Che fa? Non lo faccio E mo paghi Vabbè E vabbè E vabbè E vabbè E un mese compa No vabbè Urca Madonna 20.000 euro Ciò Porca miseria Quanto si guadagna Queste serre Quanto ti ha fatto entrare Ti ha fatto entrare 13.000 euro 13.000 13.541 Porca miseria Ragà Un paio di serre Più 6.000 Oggi Già di oggi Quindi 13 Più 6 19.000 euro Sì E hai pagato 505 euro Di debito E 4.148 Di noleggio Cioè raga Guardate come Cioè è una cosa assurda Le serre Un paio di serre E risolvete i problemi Tanto alla fine Sto gioco che si fa O produzioni O Se lavora i campi Cioè non è barare Perché alla fine Le ho pagate le serre L'acqua ce la sto a mettere Non è che dici Stai barando Non c'è nessun oggetto Usato in vendita Proprio Oggi non se ne parlo Fortunato Mi zichina Oh di qua Quando vado Oh ma di qua Quando vado a trebbiare Mi sono tolto il debito Sì Certo Anzi Mo guardo quanta acqua c'è E metto un altro giorno veloce Perché tanto alla fine Devo andare avanti Per davvero Devo andare avanti Ma qua Nel campo delle pecore Qua con pa Qualcuno ti è passato da in mezzo Cioè Oddi Ma che poddi Perché Perché vedo la linea Tipo Vedo una linea in mezzo al campo Boh Vabbè da sapedere che Sai la questione Della De Come cacchio si chiama La questione quella Mi ricordo L'erbaccia Tipo No Eh Ah Boh Vabbè Sì E quella questione là Che è tutto strano Compa A proposito comunque Di pecore Diamogli da mangiare Prima che me ne dimentico Quindi volendo Possiamo aspettare un altro mese Io mi faccio questo qua Io mi sto caricando Quella sera che sto un po' scomoda Capisci Compa Quella che sta al centro Ce n'è una che è un po' vuota Di sé Oh quanto cacchio Magnate oggi Ho finito Ho finito Ho finito Vabbè dando una balla di erba A comprarla Di fieno Cacchio Ci vuole Non ci vuole niente Ma tanti 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 Anzi ora mi tolgo anche Gli ultimi soldi Così di preciso Abbiamo 700 euro Abbiamo Vai 700 euro Vediamo E stiamo pagando Il noleggio Del Coso Ma non importa Tanto con tutti i soldi Che arrivano Mi posso anche Per mettere il noleggio Ok Sono arrivati 15.000 euro Un po' di meno Perché ovviamente Cambia Meno alle 4.000 euro Del noleggio Ma che tu lo vedi Che pago 4.000 di noleggio Al giorno Scusa Compa Esca Vai sul simbolino Dei soldi E io non vedo Scritto 4.000 euro Di noleggio Costi noleggio 680 euro Compa 680 euro Al giorno Costa il noleggio Del Car Della botte Sì Vabbè comunque dai Io faccio 15.000 euro Al giorno Che poi comunque Ovviamente dipende Dal Dal periodo Perché c'è periodo Che paga di più Periodo che paga di meno Ovviamente no Però cavolo 15.000 euro 15.000 euro 10.000 20.000 euro Al giorno E' tanta roba Comunque Cioè Io non me la mento Di sicuro Allora Vabbè Mi sono dimenticato Che gli devo Dar da mangiare Alle galline No Allora L'ho fatto Anzi Ops Scusi E' finito No vabbè Ma Non è un problema Ma compro una balla Compro una cosa Gli do qualsiasi cosa Da mangiare Per ora Non è un problema Comprare una balla Di erba Di fieno Perché devo Comprare poi Un terreno Ovviamente Magari con Delle erba Però ragazzi Grazie alle serre Riusciamo ad uscirne Da sto problema Un poco per volta Ma ne usciamo Almeno riusciamo Un pochino A Ad andare più A squadrare Eh perché poi Comunque Sai no Nicchia ma Quando è che porti Le olive Ci vogliono i soldi Se riusciamo Ora a farli E' più facile Arrivarci E ancora Potrei mettere serre Tanto alla fine Non è barare Perché comunque Devo fare avanti e indietro Con l'acqua Non è barare Barare è quando Quando tipo Metti il pannello solare Non lo guardi più In vita tua E' lì che va avanti Quello si Anche se L'hai pagato ovviamente Giusto? Eh anche Ma anche le serre Le ho pagate Si Ho pagato tutto Fino a mo' Non è neanche Barare quello Anche perché Pannelli solari No no Barare nulla È barare Allora dunque Vediamo Offerte Oh Ah Quanto caspita Costa Cioè la raccogli cotone Usata a 380 mila euro Ed è scontata Del 55% Ma quanto costa la nuova 700 mila euro? Quella da John Deere Mizzica Eh sì No Non c'è niente Che mi serve oggi Troppo caro Troppo caro Va bene ragazzi Vedo che Il tempo È decollato via Se ne è andato Mi sa che ci fermiamo qua Quindi Cosa abbiamo fatto In pratica In questo gameplay Nulla di Nulla diciamo Di nuovo Ovviamente Lo so Però Abbiamo Fatto dei conti Meglio E abbiamo capito Che se vogliamo Fare un po' Di soldi Più facilmente Le serre Sono l'ideale Assolutamente Quindi da ora Da ora in poi Dovremmo riuscire A comprare Più cose Oltretutto Il debito Ormai Piano piano Lo tolgo Quasi Va bene Quindi io spero Che vi sia piaciuto Questo gameplay Magari vi è tornato Utile nella vostra Partita Così sapete Cosa conviene E cosa conviene Né meno Ovviamente vi ricordo Che in descrizione Trovate il canale Di Miticaccio Vi ricordo che in descrizione Trovate un link Che vi permette Di comprare Questi e tanti altri Giochi scontati Il mio canale Twitch Se vi fate Guardarmi live I miei social E così via Vi salutiamo ragazzi Ciao alla prossima Ciao ragazzi Ciao ciao